ecco oggi sono al relais etàpe del tour che è una sorta di ristorante diciamo costruito con tensostrutture proprio organizzato al tour de france che non c'è nessun'altra competizione è solo al tour de france non c'è al giro d'italia non c'è la vuelta è piazzato di solito a metà della tappa ecco questo è l'ingresso anche i relais etàpe non sono sempre uguali e questo oggi è un po più piccolino un relais etàpe di montagna diciamo al relais etàpe ci sono gli invitati gli invitati sono o gli sponsor o i tour de france qui ci commento live commentano live la tappa a commentare c'è nicolà vogandri che è stato un tre volte campione francese direi oppure Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. E' un po' che vuole un po' che vuole un po' che vuole un po' che vuole. Allora io quest'anno in gruppo ho Dino che è stato il primo americano a prendere parte alla Parigi Brest? E' stato il primo americano a prendere parte Beh, erano due americani che abbiamo tanti Ah, ok Siamo arrivati all'a stesso tempo All'a stesso tempo, ok Sì, siamo in 1991, a 100 anni, a 100 anni E' stato il primo, io ero il secondo, per 20 minuti Ma mi dice 4 anni dopo che volevo mettere il record e potremmo mettere il record se lavoravamo insieme Quindi nel 1995, lavoravamo insieme e fai 40 minuti più veloce e senti il record Wow E' stato il record Il record di Parigi Brest? 43.20 Ah, 43.20 43 ore e 20 minuti Continuamente Sempre a pedalare La testa bassa No stop, no stop Just un po' Senza dormire Che grande impresa Senza dormire Che grande impresa Un Che grande impresa Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.